Ultima cosa su... dico ultima cosa sulle donne che giocano, no? Molte volte vi spiego il perché le donne fanno i giochini con voi, perché si allontanano, perché, allora, una donna si può allontanare e le donne si allontanano sempre a un certo momento della relazione, ok? C'è anche chi lo fa consapevolmente. Le donne che lo fanno consapevolmente, quindi lo fanno apposta, ed è per questo che ritorno alla parola che fanno i giochini, lo fanno perché? Uno, perché vogliono la tua attenzione, ok? Segnatevi queste cose in questo momento, prendete appunti, ok? Secondo, è perché vogliono piacerti, vogliono essere interessanti ai tuoi occhi, ok? Altra cosa, non vogliono, che è poi collegata, non vogliono essere facili, cosa che molto spesso voi lo siete, anche fin troppo, cioè vi innamorate subito, ma ovvio perché voi siete guidati da altri istinti, eh? Altra cosa, non vogliono essere troppo disponibili. Questi sono i quattro punti. Perché? Perché sanno che se loro sono troppo disponibili, sono subito disponibili, tu ti stancherai. Da dove arriva questo pensiero? È perché le donne si stancano presto di un uomo troppo disponibile. Ci siamo? Riuscite a capire questo dualismo, che sono proprio due mondi separati, ma se voi riuscite a tradurre il loro messaggio, il loro modo di comportarsi e quindi fare vostro, cioè rinnovare il vostro e agire a seconda di questo specchio, di questo prisma col quale vedere il mondo delle relazioni, voi siete in vantaggio assoluto.